Eccoci di nuovo insieme, le notizie di oggi giovedì 22 di agosto, bentrovati. Un turista napoletano di 40 anni è stato trovato esanime in mare lungo il litorale nord di Senigallia, inutili soccorsi del 118 e l'intervento dell'eliambulanza. L'uomo, che si trovava in vacanza nella località turistica marchigiana con alcuni amici, è morto durante il trasporto in ospedale a Torrette di Ancona. Era entrato in acqua da pochi minuti e potrebbe quindi essere stato colpito da un malore. È stato notato accasciarsi da due bagnanti che hanno poi dato l'allarme. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita questa mattina alle 8.44 a largo di Ancona, Numana, e sentita su tutta la costa marchigiana, anche a Senigallia, lo si apprende dall'ingivu. La profondità del sisma è di 7,9 km. Molte le persone uscite in strada per la paura e tante le chiamate ai vigili del fuoco e alla protezione civile. La continua riduzione del welfare del paese porterà insieme al taglio degli organici e alla chiusura di ben 28 sedi dell'INAIL sul territorio nazionale, con l'inevitabile conseguenza di ulteriori tagli di servizi ai cittadini. Tra le sedi che l'amministrazione INAIL ha deciso di chiudere c'è anche quella di Senigallia. Nei giorni scorsi la USB ha chiesto un incontro con il sindaco di Senigallia Mangialardi per cercare di poter trovare insieme una soluzione. Apertura ufficiale ieri sera della fiera campionaria di Senigallia. Vediamo. Grande folla nel giorno dell'apertura ufficiale della fiera campionaria di Sant'Agostino, che ha preso d'assalto gli stand e le corsie sin dall'inaugurazione avvenuta alle 18, proseguendo fino a chiusura a tarda notte. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle autorità civili e militari e con l'esibizione della banda cittadina. Siamo alla ventitresima edizione, quindi ormai è diventato un must per il comune di Senigallia, che ringraziamo per l'aiuto che ci dà sia logistico che operativo. Sicuramente in un momento di crisi è una fiera che ha grosse prospettive per gli artigiani e tutti quelli che operano nel settore. E' diventata questa, con la crisi appunto, una delle fiere più grandi della regione Marche. Come fiera campionaria non penso che ci sia un'altra fiera nella regione che abbia questo numero di persone, di operatori e nello stesso tempo anche un numero molto vasto di visitatori. E di questo dobbiamo anche ringraziare lo stesso la città di Senigallia perché indubbiamente l'aspetto turistico la dice lunga e fa sì che il numero dei visitatori sia sempre molto elevato. Roma protagonista del secondo appuntamento dell'Angolo Giallo venerdì 23 alle 18.45 per 20.000 righe sotto i mari in giallo. Una Roma raccontata attraverso le avventure, le investigazioni e gli humor del commissario Ponzetti, il personaggio di Giovanni Ricciardi che sarà intervistato da Massimo Carloni. Compia cento anni, proprio domani, venerdì 23, la sirenetta di Copenaghen, la famosa statua situata all'ingresso del porto della capitale danese che raffigura la protagonista di una delle più celebri fiabe di Hans Christian Andersen. Festa dunque anche per la Penelope della spiaggia di Velluto, la statua di Gianni Guerra che dal 2004 vigila sul molo senigallese dalle 19 di domani sera. Le due sirenette si uniranno perciò in un festeggiamento che unirà idealmente le due città. È tutto, grazie per averci seguito come al solito l'appuntamento e per l'edizione di domani.